Bene amici, nell'attesa di vedere questa sera S10 e non solo, ecco qua unboxing così giusto per riscaldarci tra l'altro unboxing assolutamente al buio perché a parte quello che avete visto in copertina tutto il resto mi è ignoto, non so cosa c'è in queste scatole partiamo da questa... A parte una monetina, secondo me, porta fortuna Cos'è? Caricatore wireless per macchina d'apertura automatica Vabbè, lo proverò, sì mi scimmiano Ultimamente ho visto anche su Facebook delle pubblicità con questi caricatori si aprono e si chiudono E poi questa busta dove al tatto c'è sicuramente dentro un libro ma presumo che arrivi da voi perché il mittente è Luca Delellis Ma dai che carino Luca che mi ha mandato la sua tesi di laurea dove parla di Xiaomi e Samsung e mi invita a leggerla e magari a confrontarmi con lui Sicuramente la farò nei ritagli di tempo Ma vediamo, ma questo pacco secondo me arriva da noi Giovanni Soffentini O fosse era Soffentini che mi manda uno spinner a forma di telefono e soprattutto lo Xiaomi feature phone Sì, fichissimo, piccolissimo Questo lo provo sicuramente Giovanni sei quasi più appassionato di me ma veramente grazie mille di avermi dato anche l'onore della spellicolatura Ma arriviamo a questo pacco che arriva dalla Cina e Lenovo Air Questa fa parte di quella collezione di cuffie true wireless cinesone da medio di gamma che però... Gearbest non me l'ha ancora mandate A volte i pacchi da Gearbest ci mettono veramente tanto ad arrivare E queste? Vabbè, le metto lì da provare Ma veniamo al pacco di Amazon Eccolo qua Quello in superante prima L'avete visto nella copertina Sarà in vendita da... Però attenzione Spedizioni partiranno il 27 di questo mese Eccolo qua Lui è l'Eco Show E si differenzia dagli altri Eco Per avere un grande display da 10,1 pollici HD Dovete sapere che la prima versione Intanto anche qua Ah, che bello Di questo device Non è mai arrivata in Italia In conferenza stampa Quando ce l'hanno presentato Ci hanno detto che l'Italia è stata entusiasta degli Eco Hanno superato ogni... Ogni rosa aspettativa che avevano di venda di questi device Ovviamente non ci hanno potuto dare numeri Ma ci hanno detto che proprio grazie a questo Questo show arriva anche in Italia Purtroppo oggi non posso accenderlo Ma hanno detto che lo posso accendere dal 21 Quindi da domani appena torno da Londra Lo metto sotto E quindi poi lo proverò Andrò a Barcellona Quindi lo lascerò in pasto a Chiara e Gabriel Glielo farò provare Intanto ve lo racconto un po' Vedete sopra tre pulsanti Due per il volume Uno per mettere in muto il microfono Tra l'altro il pulsante muto qua Va a spegnere anche la telecamera Davanti da 5 megapixel Per questione di privacy Abbiamo 4 davanti microfoni e 4 microfoni sopra Dietro con questo rivestimento un po' diciamo telatino Due twitter laterali e un woofer che è messo qua E poi qua ovviamente la possibilità di attaccarlo alla network Perché c'è scritto network sulla micro usb? Boh forse perché si può collegare un adattatore con l'ethernet Non lo so E qua c'è invece il jack per collegarlo alla corrente Veramente pesante Arriveranno anche in Italia le integrazioni magari non subito al lancio Con vivo per i video musicali gratuiti E anche con Skype Quindi si potranno fare oltre che le chiamate tra Echo e Echo Soprattutto mi riferisco all'occhio Quindi quello che ha il display magari più piccolino Oppure due di questi show Anche con Skype In confezione ovviamente c'è anche qua l'alimentatore E niente per YouTube ci sarà preinstallato il browser Silk E anche Firefox Cosa importante Lui come il Plus che ho qua in ufficio Ha integrato l'Hub Zigbee Quindi la domotica si può gestire direttamente da lui Senza Hub con tutti i pro e i contro Che abbiamo visto anche con il Plus Probabilmente si potrà collegare anche al subwoofer Ma tutto questo lo scopriremo solo vivendo Cioè solo quando lo attaccherò Ovvero domani Poi recensione tra qualche giorno Prezzo 229,90 Al netto di promozioni Che ancora non so se verranno fatte Ma vi lascio qua in descrizione il link Per arrivare direttamente a lui E lui è in prevenita già da adesso Quindi se qualche promozione secondo me la vedrete subito Ci ho detto Eh vado a prendere l'aereo Volo a Londra E tra qualche ora Pochissimo vedrete l'S10 Adesso Quasi quasi Mi porto via il feature phone No vabbè Fermi tutti Sentite Ma questo è uno spinner telefono Vero che funziona davvero Vero che funziona davvero Guardatelo Ma l'ho fatto in privato Godendo di questo momento E ho aperto E ho aperto anche questo telefono Con i comandi vocali E' completamente in cinese questa funzionalità Quindi assolutamente inutile alle nostre attitudini Tra l'altro all'inizio quando arriva lingua cinese Per trovare l'inglese è stata una lotta Ma alla fine ce l'ho fatta E poi sembra veramente un ritorno al passato Un po' come se Xiaomi avesse voluto copiare Nokia Perché comunque come design è molto simile ai Nokia Tra l'altro guardate qua sopra Si può usare come telecomando Perché ha la porta a infrarossi sotto la Type-C Oltre all'altoparlante Ma tornando a bomba Un menu a iconcione con la storia delle chiamate I contatti che si possono sincronizzare da un cloud Cloud non ho ben capito Penso proprietario Ovviamente SMS Remote control dove si possono inserire i device Da andare a telecomandare In realtà se perdete il telecomando del condizionatore Potrebbe essere un bel sostituto Perché è anche di design Ma torniamo a bomba Vabbè i settaggi come vedete Io sono riuscito a metterli praticamente tutti in inglese L'unica cosa la tastiera Ecco la tastiera si inglese Ma il T9 funziona solo in cinese Quindi un gran casino Qui abbiamo la possibilità di andare a vedere il meteo Comunque music si può mettere nella micro SD della musica Radio FM Guardando ho detto Caspita però c'è la radio FM Magari si può usare come radiolina Tipo 90esimo minuto la domenica Per ascoltare le partite così In realtà no Perché ho scoperto che Sono solamente in streaming E infatti Qua dovete decidere dove siete Ma ovviamente in città cinesi E poi vi farà l'elenco di tutte le radio Ma guarda un po' se voi cliccate su una radio E alzate il volume Eh sì Potete ascoltare radio cinesi Così a caso se volete farvi una cultura generale Vabbè torniamo Torniamo indietro Perché se andiamo sotto Possibilità di Vabbè orologio con gli allarmi Il calendar Qualche games Tra l'altro qua scopiazzatissimo Dai Nokia Perché guardate C'è Tetris E c'è Snake Sì ok Una versione un pochino Semplificata di Snake Non mi fa impazzire Però comunque Comunque c'è Andiamo indietro Vi faccio vedere gli altri menu Vabbè il tools Dove ci sono calcolatrice C'è qualcosa Con la posita anche Tra l'altro di Scaricare file C'è già qualche forum Soprattutto russo Che sta preparando degli apk O delle cose Per poter installare applicazioni Un telefono proprio per Super malati di mente Browser web E sync assistant Quello che dicevo prima Si può sincronizzare Ma boh con cosa Solo contatti sms Tra l'altro Probabilmente con un cloud Proprietario suo E poi browser web Guardate Ho messo il Google come pagina iniziale Ho configurato Andriagalazzi.com E incredibile Guardate si riesce Anche a navigare Sul blog Vabbè Un inutilissimo telefono Però molto carino Molto simpatio Così se avete Voglia Avete una scimmia Grazie ancora Per avermelo spedito Prometto settimana prossima Te lo rimando Dove si trova Penso sui soliti Gearbest Un po' caruccio Mi sembra Nei 100 euro Banggood Intorno ai 50-60 Magari vi lascio Anche qua i link In descrizione Ancora grazie 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 Per avermelo provato Ma star Indiscussa Di questo Unboxing Il Fidget Spinner Telefono Tamarro Che suona Ciao Ci vediamo tra qualche ora Da Londra Presentazione S10 Qui si 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 Si